Ben ritrovati, dopo tre settimane di pausa riprendiamo con la normale programmazione dell'informazione qui a Telesud, certamente con l'appuntamento principale, quello delle 13.45, cioè il TG Sud. Ci siamo lasciati che eravamo in zona bianca e invece ci ritroviamo proprio da oggi in zona gialla. Non è un buon ritorno certamente, però dobbiamo comunque fare in un certo senso buon viso a cattivo gioco, ma soprattutto dobbiamo capire che così non si fa da nessuna parte. A proposito, vediamo il servizio. La Sicilia da oggi è zona gialla, lo ha disposto il Ministero della Salute su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico e sulla base dell'andamento della curva epidemia che nelle trascorse tre precedenti settimane ha visto l'aumento dei parametri di riferimento, numeri di ricoverati in terapia intensiva, numero di ricoverati in area medica, incidenza dei contagi ogni 100.000 abitanti. La Sicilia, dallo scorso 15 agosto, ha fatto registrare ogni giorno più di 1.000 nuovi positivi al Covid-19. Le terapie intensive hanno superato la soglia d'allarme del 10%, attestandosi al 12%, il doppio rispetto alla media nazionale. Nei reparti Covid il tasso di ospedalizzazione è del 21% contro il limite del 20% e, soprattutto, rispetto alla media nazionale del 7-8%. La nostra Regione ha ampiamente superato tutti i parametri e soprattutto registra un trend in crescita che fa temere anche la possibilità di un prossimo passaggio in zona arancione che scatta se i ricoverati in terapia intensiva supereranno il 20% e quelli in area medica il 30%. Le ragioni di questi dati sono da ricercare prevalentemente nel fatto che la Sicilia è la Regione con il più basso tasso di vaccinazione in Italia. L'ordinanza del Ministero della Salute dispone, tra le misure di prevenzione, l'obbligo di coprirsi bocca e naso con la mascherina anche all'aperto e il limite di quattro commensali al tavolo di ristoranti e locali. Rimangono consentiti gli spostamenti tra comuni e tra regioni con l'unico limite per spostamenti su mezzi di trasporto a lunga percorrenza dell'obbligo del Green Pass da portare con sé in formato elettronico sugli smartphone o anche in formato cartaceo. Green Pass obbligatorio anche per l'accesso a piscine, palestre, centri termali, cinema, teatri, parchi a tema, congressi e fiere, manifestazioni pubbliche. In ogni caso, in tutte queste occasioni deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza tra spettatori e fruitori di almeno un metro. Il massimo delle persone che possono prendere parte ad eventi di qualsiasi natura è di mille all'aperto e 500 persone negli spazi chiusi e bisogna sempre indossare la mascherina. Parleremo di vaccini anche nel corso di questo nostro telegiornale soprattutto per quanto riguarda la parte dedicata all'approfondimento ma come ritorno all'informazione abbiamo tanto materiale di cui rendervi edotti a partire dall'incendio che c'è stato ieri nella riserva delle saline di Trapani e Paceco. Di questo ed altro tra poco nella prima edizione dell'ETG. I titoli di oggi, fuoco nella riserva delle saline, due incendi sono divampati ieri pomeriggio nell'area protetta di Trapani e Paceco che è gestita dal WWF. Erice verso le elezioni amministrative, l'opposizione alla sindaca toscano si organizza per le prossime consultazioni elettorali che saranno nella primavera dell'anno prossimo. Una voce dall'Afghanistan, lo scrittore Farad Bitani, ospite dei nostri studi per un'intervista afferma che l'Occidente è ancora in tempo per salvare il suo paese. E poi ancora in bianco e nero ma non solo, anzi ieri ad Erice inaugurata la mostra personale di Lorenzo di Vittorio allestita al Polo Museale Cordici e nella sede del CAI di via Apollonis. Per lo sport il bronzo di Valderice e Maria Andrea Virgilio ha conquistato il gradino del podio alle Paralimpiadi di Tokyo, successo raggiunto questa notte nella finale per il terzo e quarto posto di tiro con l'arco. E poi per quanto riguarda l'approfondimento, questo focus sulle vaccinazioni e sulle classifiche delle città siciliane per quanto riguarda prima e seconda dose. Vi dico subito che per la provincia di Trapani non siamo certamente messi bene, addirittura la città capoluogo Trapani si trova proprio nella coda della classifica ma ancora più in basso c'è purtroppo San Vito Lo Capo. Andiamo a vedere questo servizio realizzato da Mario Torrente per quanto riguarda il pomeriggio letteralmente di fuoco di ieri alla riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco. Nella zona di Nubia, nel territorio di Paceco, sono divampati due incendi a distanza di poco tempo e in due aree distinte e separate. Giornata di fuoco ieri nella riserva delle saline di Trapani e Paceco dove ieri pomeriggio sono divampati due incendi. Quello più grave ha interessato il pantano del canale Baiata, l'area tra la SP21 e la via Garibaldi a Nubia. A dare l'allarme attorno alle 15.30 è stata la direttrice della riserva Silvana Piacentino e il pronto intervento dei vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile con associazioni Humanitas e Angeli del Soccorso assieme ai viali Parafuoco hanno fatto la differenza scongiurando il peggio. Si è infatti riusciti ad evitare la totale distruzione dell'area in cui vive la cavalletta Platicleis Decorana Drepanensis. Il sito infatti del pantano Baiata è stato acquisito al patrimonio della regione Sicilia per tutelare la presenza della cavalletta endemismo puntiforme unico al mondo. Come ricordato dalla direttrice Silvana Piacentino, vista l'esperienza del passato, quest'anno sono stati implementati nell'area i lavori di prevenzione attraverso la realizzazione di ulteriori interventi con fasce parafuoco a salvaguardia del pantano naturale. Un secondo incendio è divampato nelle vicinanze sempre nella zona B della riserva. Il rogo è stato immediatamente circoscritto dagli uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile. Anche qui la prontezza dell'intervento ha fatto la differenza. La concomitanza dei due roghi non lascerebbe dubbi sulla matrice dolosa degli incendi. Le fiamme sono state domate nel tardo pomeriggio. I danni sono stati limitati, ma ci sono stati. Quando brucia un'area all'interno di un sito protetto il danno non si può infatti misurare esclusivamente in termini di superficie percorse dal fuoco. Un'area come quella della riserva naturale delle saline, evidenziato Silvana Piacentino, rappresenta un sito di elevata biodiversità dove ogni centimetro di territorio è importante in termini di tutela di specie vegetali, animali ed habitat in un territorio già fortemente sottoposto a diverse minacce e pressione. In questo caso le opere di prevenzione eseguite nel pantano rallentando l'avanzata delle fiamme hanno agevolato le operazioni di spegnimento, ma fondamentale è stato senz'altro il pronto intervento delle squadre, la cui immediata azione ha scongiurato che le fiamme alimentate dal forte vento potessero estendersi su tutta l'area. Dalle fiamme concrete della riserva delle saline di Trapani e Paceco alle fiamme elettorali che vengono alimentate da una serie di riunioni che le forze politiche avversarie dell'attuale sindaco Daniela Toscano Aderice stanno tenendo negli ultimi giorni. Vediamo il servizio. Il tentativo delle forze opposte alla coalizione che sostiene la Toscano è quello di arrivare compatte all'appuntamento elettorale. Si lavora in pratica per formare una coalizione in grado di competere la prossima primavera per scalzare la sindaca, che come noto ha deciso di ricandidarsi alla guida di Erice ed avrebbe già più liste della sua, dallo scranno di primo cittadino. Lavorano in silenzio ma le indiscrezioni traperano ugualmente. Ad esempio lo scorso pomeriggio si sono riuniti i rappresentanti ricini dei movimenti Via, MNA, Cives, PSI e Fratelli d'Italia. Obiettivo Erice 2022 si sta costruendo una coalizione dal perimetro ampio e inclusivo per determinare la discontinuità amministrativa con la Giunta Toscana. Si stanno attrezzando liste e programmi, provando ad individuare una figura di alto profilo quale interprete della coalizione. Ma il vero punto sul quale soffermarsi, come mera cronaca, è quello relativo alle indiscrezioni che vedrebbero altri pezzi della maggioranza che ci risulta abbiano partecipato all'incontro e stanno a valutare di aderire a questo progetto alternativo di rinnovamento amministrativo. Per la Toscana dunque si profila un periodo di grande prova, a prescindere dall'esito di queste trattative che potrebbero portare alla formazione di una coalizione multicolore. La sindaca dovrà fare i conti anche con il nuovo Movimento 5 Stelle targato Giuseppe Conte. I pentastellati infatti stanno lavorando per proporre una loro idea amministrativa basata sul concetto moderno ed operativo che veda Erice diventare attrattiva e guida per il resto dei comuni della provincia di Trapani. L'estate non è ancora finita, ma evidentemente i giochi elettorali sono già avanti. I carabinieri del nucleo operativo a radiomobile della compagnia di Trapani hanno arrestato un uomo di 51 anni per coltivazione e detenzione di marijuana. Vediamo la foto delle piantine ritrovate durante un normale servizio di perlustrazione da parte dei militari. Nei pressi di via Salemi hanno notato dietro un cancelletto di un'abitazione privata a margine della strada alcune piante di marijuana. I militari dopo aver osservato e dopo aver avuto la certezza che si trovassero di fronte a piante di marijuana sono entrati, hanno approfondito il controllo e hanno trovato 10 piante di marijuana della lunghezza variabile tra un metro e un metro e settanta. Due piante di marijuana erano già parzialmente essiccate e a protezione della mini piantagione c'erano due cani di razza pitbull che, dicono i carabinieri, non permettevano l'avvicinamento. È scattata così la perquisizione personale e domiciliare per il proprietario dell'abitazione che è stato trovato in possesso di ulteriori 64 grammi di marijuana custodita all'interno di barattoli di vetro e poi c'erano pure circa 40 grammi ritrovati all'interno dell'autovettura di proprietà dello stesso, oltre a materiale atto al confezionamento della sostanza. Il 51enne è stato quindi posto agli arresti domiciliari. Ci fermiamo per questa parte di telegiornale ma c'è ancora altro da dirvi dopo. E adesso invece in questa seconda parte ci occuperemo anche noi in qualche maniera e alla nostra maniera soprattutto dei problemi di cronaca legati all'Afghanistan. Poi andiamo a vedere la mossa personale di Lorenzo Di Vittorio in bianco e nero ma non solo, infine la contentezza per il bronzo preso dall'atleta Maria Andrea Virgilio alle Paralimpiadi di Tocchio. Ma prima di tutto questo un servizio l'ennesimo purtroppo episodio di violenza domestica che vi reso contiamo è un vero e proprio campanello di allarme che giunge dalle pagine di cronaca. Vediamo. I carabinini di Pantelleria hanno arrestato un uomo di 62 anni, ubriaco, per maltrattamenti in famiglia. I militari lo hanno ammanettato per avere minacciato e aggredito la moglie dopo l'ennesima lide. Per l'uomo è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Questo ennesimo episodio rende l'idea di quanto sia alta l'attenzione contro la violenza di genere da parte dell'arma che per arginare il fenomeno ha progressivamente formato e qualificato il proprio personale. Una risposta efficace senza dubbio ma forse non sufficiente come testimoniano gli episodi portati alla luce proprio dai carabinieri nelle ultime due settimane in provincia di Trapani. Il 28 agosto scorso i carabinieri di Trapani-Borga annunziato hanno arrestato per maltrattamenti contro familiari e conviventi un uomo di 39 anni. L'uomo già la settimana precedente aveva reiterato comportamenti violenti sia fisici che psicologici nei confronti dell'ex convivente. Nella stessa giornata del 28 agosto i militari di Custonaci hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento un precidicato 24 anni di San Vitolo Capo. L'uomo è stato sorpreso dai militari in evidente stato di obblichezza mentre durante l'ennesima lite malmenava la donna. Dopo l'arresto gli è stato imposto il braccialetto elettronico e non può avvicinarsi alla compagna. Il 25 agosto i carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara hanno arrestato un ragazzo di 20 anni per maltrattamenti nei confronti dei genitori. Il 24 agosto l'arresta a Marsala di un cittadino rumeno che aveva aggredito la compagna. Sempre il 24 agosto l'arresto di un cittadino staniero che a Trapani aveva aggredito nel loro appartamento due donne. Il 23 agosto ancora violenza e minacce di un trentenne agli arresti domiciliari nei confronti della madre. Il 18 agosto manette per un 48enne anche gli ai domiciliari per minacce di morte nei confronti dei familiari. Il 13 agosto l'accusa per un 28enne di caldafimi e di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie convivente. Quasi ogni giorno la cronaca deve registrare episodi di questo tipo. Un chiaro, inequivocabile segnale di come la violenza di genere sia un fenomeno ancora troppo diffuso e che non può essere affrontato solo attraverso la repressione. Nei giorni scorsi a Trapani per partecipare alla rassegna letteraria Libri Autori e Buganville curata dal giornalista Giacomo Pilati che si tiene a San Vito lo capo era lo scrittore Farad Bitani che è stato anche ospite nei nostri studi qui a Telesud nella giornata di mercoledì 18 agosto. L'ho intervistato per la trasmissione res pubblica durante la quale si è soffermato a parlare ovviamente sulla svolta epocale che ha interessato l'Afghanistan in questi giorni. Ci ha spiegato in un certo senso come, secondo lui, ovviamente l'Afghanistan può ancora salvarsi. La trasmissione la potrete seguire questa sera, intanto ve la presentiamo. Farad Bitani è nato a Kabul il 20 settembre del 1986. È uno scrittore ed educatore afgano, ultimo figlio di un generale di corpo armata afgano che ha servito come ufficiale nell'esercito afgano durante la missione ISAF. Nel 2012 si è congedato dall'esercito per dedicarsi alla promozione della pace e del dialogo interreligioso e interculturale. È uno dei fondatori del GAF Global Afghan Forum. La sua autobiografia, l'ultimo lenzuolo bianco, è edita da Neri Pozza. Fin dai primi anni della sua infanzia si abitua a vivere a contatto con la guerra e della quale sperimenta tutte le passioni attraverso i successi e le sconfitte di suo padre. Dopo la caduta del governo di Nebula, la famiglia si trasferisce a Maimama. Nel 1997, in seguito all'arresto del padre caduto nelle mani dei talebani, Farad vive per due anni a Kabul in condizione di estrema povertà con la madre e un fratello. Nel 1999 il padre riesce a evadere dal carcere talebano di Kandahar e la famiglia si trasferisce in Iran. Nel 2002, con l'inizio dell'operazione Freedom, la famiglia di Farad si trasferisce nuovamente a Kabul. Nel 2004 il padre di Farad viene nominato addetto militare presso l'ambasciata dell'Afghanistan in Italia e nel 2005 la famiglia si stabilisce a Roma. Nel 2006 Farad è ammesso al 188esimo corso dell'Accademia Militare di Modena, completato il biennio in Accademia e si trasferisce a Torino. Nel 2011, durante un periodo di licenza in Afghanistan, subisce un attentato da parte di un commando di talebani. Sopravvissuto miracolosamente all'attacco, incomincia una riflessione sulla propria vita che lo conduce a un radicale cambiamento. Depone le armi, chiede e ottiene asilo in Italia dove incomincia un capillare lavoro di informazione e dialogo interreligioso e interculturale. La guerra, la sua infanzia, l'Afghanistan che era cambiato in meglio, la condizione delle donne e soprattutto la vera natura dei talebani, sono stati l'argomento dell'intervista che ha rilasciato a Tresud. Farad sostiene che sia ancora in tempo per salvare il suo Afghanistan e lo si fa soprattutto attraverso la cultura. Potrete eseguire la lunga e interessante intervista questa sera a partire dalle 21 con la ripresa del ciclo di trasmissioni in Repubblica Sicilia chiama Europa. Al via questa sera Derice è a cura degli Amici della Musica di Trapani, la nuova edizione della Settimana Internazionale della Musica Antica. In scena il Leonard Parminger Ensemble con un repertorio di musica rinascimentale. Non conosce sosta l'attività degli Amici della Musica in quel di Erice per questa estate 2021. Infatti a pochi giorni dalla messa in scena dell'affascinante Suoni Mediterranei, l'evocativo concerto dai tanti richiami armonici ancestrali che ha chiuso la rassegna estiva dell'associazione, già stasera si riparte con la Settimana Internazionale della Musica Antica. In programma da oggi, 30 agosto al 6 settembre, la rassegna si compone di sei appuntamenti e vede la partecipazione di nomi eccellenti del panorama internazionale della musica di genere. Ad aprire la Kermess, questa sera alle 21, presso la chiesa di San Martino, sarà il Leonard Parminger Ensemble con un repertorio di musica polifonica vocale di epoca rinascimentale. Come dire, l'antico borgo medievale di Erice ritrova i suoi suoni. Il Parminger Ensemble esplora in particolare il repertorio del compositore a cui il gruppo tributa il nome, quel Leonard Parminger appunto, le cui opere sono diffusamente ritenute di altissima qualità artistica e musicale. Un concerto insomma che è una sorta di viaggio nel tempo tra quelle armonie e melodie che hanno fatto la colonna sonora al rapporto tra gli antichi dogmi e la nostra civiltà occidentale. Dal titolo Mediavita, lo spettacolo, come tutta la rassegna, è organizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana, del Comune di Erice e inoltre, con la collaborazione dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco, del Gate Institute, della Montagna del Signore e del Conservatorio Scontrino di Trapani. L'appuntamento con il Leonard Parminger Ensemble è per questa sera alle 21 a Erice presso la chiesa di San Martino. Per la partecipazione allo spettacolo è previsto l'obbligo del Green Pass. Sempre a Erice, ma ieri pomeriggio invece è stata inaugurata la mostra personale di Lorenzo Di Vittorio, intitolata in bianco e nero, ma non solo, anzi. Le opere per lo più dedicate a Erice saranno esposte presso il Museo Cordigi e nella sede del CAI di via Apollinis fino al 5 settembre. All'inaugurazione, nella baida del Club Alpino, hanno partecipato diversi soci, oltre che il presidente della sezione di Erice, Vincenzo Fazio. La mostra personale di Lorenzo Di Vittorio, in bianco e nero, ma non solo, anzi, è patrocinata dall'amministrazione comunale di Erice ed è stata presentata da Silvana Catalano. Nella sede del CAI, che si trova nei pressi del quartiere spagnolo, si potrà visitare dalle 10 alle 13 a dal 14 alle 21. Il percorso interiore dell'artista si presenta e si configura al pubblico con disegni e tele in bianco e nero e a colore che richiamano suggestivi scorci di cortili e panorami e ricini, ma anche scene di profughi nel Mediterraneo e non solo. Dipinti con un linguaggio originale, utilizzando diverse tecniche pittoriche, le tele richiamano e amplificano l'architettura del borgo, ma anche di paesi lontani. Immagini che, intrecciate tra loro, richiamano il profondo travaglio dell'artista. Il CAI di Erice, ospitando questa mostra, intende promuovere nuovi, reali e concreti traguardi di solidarietà e di socialità come valori condivisi dal club alpino italiano. Vi ricordo gli appuntamenti di stasera, riprende la trasmissione res pubblica Sicilia Chiama e Europa. Nella prima parte ci sarà lo scrittore afghano Farad Bitani, nella seconda invece con il collega Fabio Pace. Faremo un po' un approfondimento sugli ultimi avvenimenti di cronaca della provincia di Trapani. Vi lascio adesso al meteo e poi lo sport. Siamo contenti, apriamo lo sport con questa bella notizia. Maria Andrea Virgilio ha conquistato il gradino del podio alle Paralimpiadi di Tokyo, successo raggiunto questa notte nella finale per il terzo e il quarto posto di tiro con l'arco. Ascoltiamo il servizio di Federico Tarantino. Maria Andrea Virgilio ha conquistato la medaglia di bronzo nella disciplina del tiro con l'arco compound, l'individuale femminile. L'atleta valdericina, nata nel 1996, era all'esordio ai giochi olimpici e ha portato a 28 il numero complessivo delle medaglie azzurre. Buona la prima dunque per Maria Andrea Virgilio alle Paralimpiadi. La Trapanese nella finale per il terzo e quarto posto del tiro con l'arco questa notte a Tokyo ha battuto Stefanida Hartakinova con il punteggio di 142-139 che fotografa la durezza della sfida. A conquistare la medaglia d'oro è stata la britannica Foebe Peterson che ha superato nell'ultimo atto la cilena Maria Zuniga. Una medaglia che si aggiunge alla provincia di Trapani dopo quella di bronzo conquistata nelle scorse settimane dal pesista Antonino Pizzolato. Altra gioia invece per il popolo di Valderice che dopo aver tifato per i gemelli Ala e Osama Zoglami adesso può esultare per Maria Andrea Virgilio che ha raggiunto anche i quarti nel misto di tiro con l'arco con il compagno Matteo Bonacina. Prima della partenza l'atleta valdericina ha raccontato la sua difficoltà nel prepararsi alla Paralimpiadi. Nel 2020, prima del rinvio dell'edizione infatti Virgilio ha svolto parte dei suoi allenamenti all'interno di un garage. La perseveranza però non l'ha abbandonata mai vincendo adesso la medaglia di bronzo a Tokyo. Parliamo di calcio con il nuovo Trapani che è al lavoro per la terza settimana e domani effettuerà un allenamento congiunto con il Marsala. Anche lì abbiamo il servizio di Federico Tarantino. Continua a correre il Trapani in attesa dell'inizio del campionato di Serie D fissato per domenica 19 settembre. I Granata sono alla terza settimana di lavoro e hanno disputato due test con il San Vitolo Capo e con la Juniors Granata guidata dal trapanese Vincenzo Melillo. La rosa del Trapani è pressoché completa e si appresta a ricoprire tra i prime cinque posti del torneo. Vigor la mezza e cereale sembrano quelle un po' più avanti rispetto alle altre formazioni. La composizione del girone non è stato ancora definito e bisogna comprendere quindi le squadre campane che verranno inserite nel girone meridionale. Nel frattempo il Trapani corre e domani effettuerà un test congiunto con il Marsala che disputerà il campionato di eccellenza dopo essere ripartito dal trasferimento della Folgore. La squadra di mister Ivan Moschella ancora necessita di alcuni innessi nella rosa. Mancano il portiere, e l'attaccante di riferimento della formazione Granata. Per il ruolo di guardia pali i trapanesi puntano a un under nato nel 2002 o nel 2003 che possa così alternarsi e giocarsi il posto con Giovanni Cultraro giunto in prestito da Lecce. Per l'attacco del Trapani il nome caldo è quello di Antonino Musso appena svincolato dalla Salernitana e cresciuto nel vivaio trapanese debuttando anche in prima squadra per una manciata di minuti in Coppa Italia. Come vi avevo anticipato in questo approfondimento facciamo il punto sulle vaccinazioni anti-Covid 19 con la classifica dei comuni siciliani. Il 70,88% pari cioè a 3 milioni di persone della popolazione residente ha ricevuto almeno una dose mentre è il 61,71% cioè oltre 2,6 milioni che risulta completamente immunizzato cioè con il ciclo vaccinale completato. Vediamo quasi comune per comune per quanto riguarda anche la provincia di Trapani come la situazione dalle parti della Sicilia occidentale. In Sicilia il 70,88% pari a 3 milioni di persone della popolazione residente ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid mentre il 61,71% oltre 2,6 milioni risulta completamente immunizzato ossia ha ricevuto entrambe le dosi o l'unica dose Janssen. L'intero sistema sanitario regionale è impegnato per far crescere velocemente queste percentuali che risultano ancora insufficienti a tirare fuori l'isola da una situazione di rischio. Secondo i dati elaborati dalla struttura regionale di monitoraggio della campagna vaccinale e aggiornati al 26 agosto in Sicilia si presenta una situazione a macchia di Leopardo con province maggiormente virtuose come Palermo in cui risulta immunizzato il 66,95% della popolazione 76,17% almeno una dose e aggrigento con il 66,31% ed immunizzati 76,19% almeno una dose e altre in cui i cittadini manifestano maggiori resistenze. Siracusa è l'ultima per immunizzati con 56,63% mentre il 65,80% ha ricevuto almeno una dose. Catania ha il 57,30% di immunizzati e il 65,94% ha ricevuto almeno una dose. Messina ha il 57,33% di immunizzati mentre il 65,28% ha ricevuto almeno una dose. Nel mezzo figurano la provincia di Enna con 63,44% di immunizzati e il 73% che ha almeno una dose. Quella di Ragusa con 63,10% di immunizzati e il 73,83% che ha almeno una dose. Quella di Trapani con 63% di immunizzati e il 72,63% con almeno una dose. La provincia di Caltanissetta con il 61,01% di immunizzati e il 71,22% che ha ricevuto almeno una dose. Sopra la soglia del 70% di popolazione che ha ricevuto la prima dose ci sono 173 comuni su 390. Osservando la situazione dei singoli comuni si nota che sia la prima sia l'ultima posizione nella classifica delle percentuali di vaccinazione sono occupate da due paesi del Messinese. Il più virtuoso infatti è il piccolo centro di Roccafiorita dove è immunizzato addirittura il 101,16% della popolazione target. Il 109,30% ha ricevuto la prima dose, segno che in questa località sono stati vaccinati anche i turisti di passaggio. In coda figura Fiumedinisi dove solo un cittadino su tre risulta immunizzato. 34,52% e il 40,48% della cittadinanza ha ricevuto la prima dose. Nelle prime dieci posizioni di comuni virtuosi, oltre a Roccafiorita, compaiono quattro centri del Palermitano, Palazzo Adriano, Ustica, Isnello e Giuliana, quattro dell'Agrigentino, Comitini, Lucca Sicula, Burgio, Sambuca e un altro del Messinese, San Marco d'Alunzio. Tra i capoluoghi il più alto in classifica è Ragusa con il 79,35% di prime dosi e il 73,15% di immunizzati. Seguono Enna, 77,93% prime dosi, 72,64% immunizzati. Agrigento, 77,10% prime dosi, 68,81% immunizzati. Palermo, 77,02% prime dosi, 69,92% immunizzati. Caltanissetta, 70,12% prime dosi, 65,51% immunizzati. Catania, 69,60% prime dosi, 62,68% immunizzati. Trapani, 66,28% prime dosi, 58,65% immunizzati. Siracusa, 65,96% prime dosi, 58,84% immunizzati. Messina, 59,97% prime dosi, 55,32% immunizzati. Per quanto riguarda le città della provincia di Trapani, la più alta in classifica è Calata e Fimisegesta, che troviamo al 26esimo posto. L'80% dei cittadini aventi diritto ha proceduto a farsi inoculare la prima dose, mentre la seconda è a pannaggio del 75%. Numeri di tutto rispetto. La Valle del Belice, Compertanna, Gibellina, Sant'Aninfa e Vita, tengono alta la percentuale dei vaccinati con prima e seconda dose. Circa il 78% di prima dose, 70% invece già con doppia dose. La città di Trapani la ritroviamo al 241esimo posto. Il capoluogo non sembra rispondere come dovrebbe alla necessità di sottoporsi al vaccino per contrastare l'avanzata del Covid. Solo il 66,28% della popolazione avente diritto si è sottoposta alla prima dose, mentre il ciclo vaccinale con doppia dose è a pannaggio del 58,65%. Erice e Valderice anticipano Trapani di pochi punti percentuali e la troviamo rispettivamente al 192esimo posto e al 199esimo posto. Mazzara si trova al 133esimo posto e Marsala si trova nella posizione 138, 72% circa prima dose e 65% circa seconda dose nei due comuni. Ma è San Vitolo Capo che fa registrare la posizione più bassa in classifica fra le principali città della Western Sicily. La troviamo al 315esimo posto con numeri per quanto riguarda prima e seconda dose che lasciano perplessi, 60% prima dose e 51% prima dose. Abbiamo un servizio nuovo in quest'altra parte di Tg ed è quello che riguarda i controlli e soprattutto le sanzioni per assembramenti nel fine settimana. I controlli hanno riguardato e le sanzioni anche il mancato uso delle mascherine a Marsala. Tutti i controlli sono stati effettuati dai carabinieri hanno riguardato soprattutto due noti locali del centro storico Marsalesa. Titolari, personale e alcuni avventori di due noti bar del centro storico di Marsala sono stati sanzionati dai carabinieri nel corso dei controlli sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e del Green Pass. Le sanzioni amministrative sono state elevate per assembramento e mancato uso dei dispositivi di protezione individuale. Ulteriori controlli verranno operati per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte a seguito dell'ordinanza del Ministero della Salute che ha imposto la zona gialla al territorio siciliano. Nel corso del fine settimana sono incappati nei controlli dei carabinieri anche uno studente di 20 anni alla guida della propria autovettura sotto l'influenza di sostanze alcoliche con tasso superiore soglia di rilevanza penale e un altro ragazzo di 21 anni che a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a Serramanico. Entrambi sono stati denunciati nel corso delle attività. Sono state elevate svariate sanzioni al codice della strada per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa con relativo sequestro di mezzi risultati non in regola. Per chi si fosse messo alla visione del nostro DG solo adesso vi ripropongo due servizi che hanno caratterizzato la prima edizione cioè l'incendio di ieri nella riserva delle saline di Trapani e Paceco e poi per chi non l'ha ancora capito il servizio sulla zona gialla che è scattata oggi in Sicilia. Giornata di fuoco ieri nella riserva delle saline di Trapani e Paceco dove ieri pomeriggio sono divampati due incendi. Quello più grave ha interessato il pantano del canale Baiata, l'area tra la SP21 e la via Garibaldi a Nubia. A dare l'allarme attorno alle 15.30 è stata la direttrice della riserva Silvana Piacentino e il pronto intervento dei vigili del fuoco, dei volontari della protezione civile con associazioni Humanitas e Angeli del Soccorso assieme ai viali parafuoco hanno fatto la differenza scongiurando il peggio. Si è infatti riusciti ad evitare la totale distruzione dell'area in cui vive la cavalletta Platicleis Decorana Drepanensis. Il sito infatti del pantano Baiata è stato acquisito al patrimonio della regione Sicilia per tutelare la presenza della cavalletta, endemismo puntiforme unico al mondo. Come ricordato dalla direttrice Silvana Piacentino, vista l'esperienza del passato quest'anno sono stati implementati nell'area i lavori di prevenzione attraverso la realizzazione di ulteriori interventi con fasce parafuoco a salvaguardia del pantano naturale. Un secondo incendio è divampato nelle vicinanze sempre nella zona B della riserva. Il ruoco è stato immediatamente circoscritto dagli uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile. Anche qui la prontezza dell'intervento ha fatto la differenza. La concomitanza dei due roghi non lascerebbe dubbi sulla matrice dolosa degli incendi. Le fiamme sono state domate nel tardo pomeriggio. I danni sono stati limitati, ma ci sono stati. Quando brucia un'area all'interno di un sito protetto il danno non si può infatti misurare esclusivamente in termini di superficie percorse dal fuoco, un'area come quella della riserva naturale delle saline, ha evidenziato Silvana Piacentino, rappresenta un sito di elevata biodiversità dove ogni centimetro di territorio è importante in termini di tutela di specie vegetali, animali ed habitat in un territorio già fortemente sottoposto a diverse minacce e pressione. In questo caso le opere di prevenzione seguite nel pantano rallentando l'avanzata delle fiamme hanno agevolato le operazioni di spegnimento, ma fondamentale è stato senz'altro il pronto intervento delle squadre, la cui immediata azione ha scongiurato che le fiamme alimentate dal forte vento potessero estendersi su tutta l'area. La Sicilia da oggi è zona gialla, lo ha disposto il Ministero della Salute su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico e sulla base dell'andamento della curva epidemia che nelle trascorse tre precedenti settimane ha visto l'aumento dei parametri di riferimento, numeri di ricoverati in terapia intensiva, numero di ricoverati in area medica, incidenza dei contagi ogni 100.000 abitanti. La Sicilia, dallo scorso 15 agosto, ha fatto registrare ogni giorno più di 1.000 nuovi positivi al Covid-19. Le terapie intensive hanno superato la soglia d'allarme del 10%, attestandosi al 12%, il doppio rispetto alla media nazionale. Nei reparti Covid il tasso di ospedalizzazione è del 21% contro il limite del 20% e soprattutto rispetto alla media nazionale del 7-8%. La nostra regione ha ampiamente superato tutti i parametri e soprattutto registra un trend in crescita che fa temere anche la possibilità di un prossimo passaggio in zona arancione che scatta se i ricoverati in terapia intensiva supereranno il 20% e quelli in area medica il 30%. Le ragioni di questi dati sono da ricercare prevalentemente nel fatto che la Sicilia è la regione con il più basso tasso di vaccinazione in Italia. L'ordinanza del Ministro della Salute dispone, tra le misure di prevenzione, l'obbligo di coprirsi bocca e naso con la mascherina anche all'aperto e il limite di quattro commensali al tavolo di ristoranti e locali. Rimangono consentiti gli spostamenti tra comuni e tra regioni con l'unico limite per spostamenti su mezzi di trasporto a lunga percorrenza dell'obbligo del Green Pass da portare con sé in formato elettronico sugli smartphone o anche in formato cartaceo. Green Pass obbligatorio anche per l'accesso a piscine, palestre, centri termali, cinema, teatri, parchi a tema, congressi e fiere, manifestazioni pubbliche. In ogni caso, in tutte queste occasioni, deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza tra spettatori e fruitori di almeno un metro. Il massimo delle persone che possono prendere parte ad eventi di qualsiasi natura è di mille all'aperto e 500 persone negli spazi chiusi e bisogna sempre indossare la mascherina.